Benvenuti in questo nuovo video! Oggi andremo ad esplorare e commentare Strangerville. Lei è Puzzi. Vabbè, ce la farò a registrare questo video. Ce la farò. No, il microfono! No, il microfono! Lascialo, lascia il microfono. Ho deciso di portare Strangerville per far... ce la posso fare. Ho deciso di portare questo scenario perché, vista l'imminente uscita della nuova espansione Vita nel Ranch e vista la somiglianza che c'è nello scenario, ho deciso di portare questo proprio per evidenziare le differenze, soprattutto nel gameplay. Ora, io non mi soffermerò sul gameplay, ma secondo me vale la pena averli tutti e due. Beh, in realtà vale la pena averli tutti. E soprattutto a chi piacciono le storie di alieni, storie misteriose, questo gamepack è perfetto. In questo gamepack ci sono solo due quartieri. Il terzo è il laboratorio segreto, piazza di Strangerville. La piazza di Strangerville è il luogo in cui gli abitanti passano del tempo assieme. Puoi trovare scienziati in biblioteca nonché membri dell'esercito al bar e al negozio di souvenir vicino al parcheggio Perulotte. Al negozio puoi comprare oggetti decisamente strani e trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno. Cahill? Non so come si pronuncia. Andiamo a vedere il primo lotto. Sono rottami di un aereo. È proprio carino. Ci sono delle scale. Scendendo giù abbiamo tutto questo bunker. Partiamo da qui le pareti con questo metallo bellissimo, lo adoro. Mi fanno impazzire anche queste luci, sono troppo carine. Prima o poi le devo usare in qualche build industrial. Ci sono troppo bene. Qui abbiamo una stanza dove poter piantare una pianta perfetto per l'ossigeno, per mangiare. Poi qui abbiamo la stanzina dove vivere. Quindi c'è la cucina, c'è il lettino fatto tipo brandina, il computer e un po' di provviste. Ecco, qui troviamo queste provviste spiaccicate e intersecate nel muro. Di qua abbiamo uno sgabbuzzino e anche di qua ci sono le provviste intersecate nel muro. Ma perché? Ma perché? Mannaggia, miseria, perché? Di qua invece abbiamo il bagnetto. Anche questo non capisco molto il senso. Abbiamo la vasca vecchia, si vede vecchia, sporca. Il WC, anche questo sembra comunque vecchio, un po' sporco, eccetera. Il lavandino perfettamente nuovo, con lo specchio perfetto nuovo. È carino, un bel lotto, molto particolare più che altro. Scivolo 42. Questo lotto mi piace tantissimo perché è pensato come tipo campeggio, centro per roulotte. E quindi ci sono tutte queste roulotte messe qui. Troppo bello, mi piace un sacco. E questa è una di quelle, mini mini case. Abbiamo anche gli ignometti da giardino. Andiamo a vedere che c'è all'interno. Anche qui una cucina. Abbiamo il tavolo, oddio non mi ricordo come si chiama. Il dispositivo di intercettazione. Il lettino. E un tavolino con il PC e due sedioline. Di qua abbiamo il bagno. Anche questo proprio semplice, semplice. Non ci hanno messo manco uno specchio, una carta igienica. Cioè proprio... In realtà anche la casetta all'interno non è proprio delle migliori. Però nel complesso secondo me comunque è carina. Otto campane. Questo è il bar dello scenario. Devo dire che non mi fa impazzire la struttura. L'unica cosa che mi piace tantissimo è l'insegna. L'insegna è proprio carina e simpatica. Andiamo a vedere l'interno. Anche l'interno non mi fa impazzire. E' semplicissimo, è un quadrato con quattro tavoli, con due tappeti e il bancone del bar. Basta, finito. C'è il jukebox, finito. Non c'è niente di particolare, niente di... Non lo so, niente che mi fa dire oddio che bello questo bar, è stupendo. No. Piccolo spoiler. Poi c'è il bagnetto qui. Almeno qui ci sono sia la carta igienica che lo specchio. Dai, si sono sforzati. Il chioschetto che dicevamo prima dove vendono i souvenir è questo qui. Che ora è chiuso perché naturalmente non sono nel gameplay. Però è carinissimo. Centro turistico di Strangerville. Questa è la biblioteca di Strangerville. Tutta questa zona qui l'ho pensata come se fosse la piazza. E mi piace un sacco come è stata fatta. Questa sì, questa è molto bella. La struttura invece della biblioteca non mi fa impazzire. Forse è un po' troppo classica. Andiamo a vedere l'interno. Anche l'interno non è niente di che, secondo me. Ci sono queste librerie messe così, con delle sedute. Qua c'è la scrivania. Qui abbiamo un po' di postazioni per il pc, gli scacchi. Poi c'è il mini mini bagnetto. Eccolo qua. Anche qui per fortuna hanno messo carteggianica e specchio. Però per il resto, ripeto, secondo me non è niente di che. Sigworth. Anche questa casetta non mi fa impazzire. È troppo semplice per me. A parte che è una cosa che non mi piace per niente. Quando il tetto ha questa forma qui, l'entrata mi piace centrata. Non di lato così. Però vabbè, sono gusti personali. Comunque non mi fa impazzire. Secondo me è veramente troppo troppo semplice. E anche come sono stati divisi e pensati gli ambienti, secondo me è tutto sbagliato. Se sentite dei rumori, sono i miei due bambini pelosi che devono per forza stare con me e non mi fanno registrare. E fanno casino. Partiamo dall'ingresso. Quindi si entra qui con la prima porta che ridà sulla camera da letto matrimoniale. Che, devo dire, non è malissimo. Non mi fa impazzire, ecco. Anche questa camera ha il fatto pure di mischiare tutti questi colori. Cioè il letto che è di un colore. Il comodino di un altro colore. La mensola qui sopra di un altro colore ancora. Accanto abbiamo la stanzetta della bimba che invece è bellissima. è tutta colorata, piena di dettagli, cioè di tutto. Almeno è un po' più particolare. Il bagno. Ecco, il bagno è un po' buio, secondo me. Potevano mettere una lucetta in più. Una luce sola qua. E quindi ti riesci a vedere bene solo mentre ti asciughi le mani. Per il resto ti lavi gli occhi, cioè ti lavi al buio. Qui c'è la sala da pranzo con il salottino. Molto molto semplice. E di qua abbiamo un arco con la cucina. E anche qua, cioè i banconi sotto sono bellissimi. Molto moderni. Con quelli di sopra che non ci azzeccano niente. C'è proprio una cozzaglia di stili, una cozzaglia di colori, di robe messe lì. Un'altra cosa che mi fa impazzire è di solito si mette il lavandino sotto la finestra. Invece loro ci hanno messo il fornello. Poi qui in cucina c'è una porta per uscire all'esterno e ci sono semplicemente due sedioline. Secondo me quello che vale di tutto questo game pack è il gameplay. Le case non mi fanno impazzire, lo scenario è bellissimo. E il gameplay è la cosa più bella di tutte. Angolo del carpofago. I colori di questa casetta invece, al contrario delle altre, mi piacciono un sacco. È molto accogliente ed è, non lo so, questi colori qui molto freschi. Mi sa di casa estiva o comunque casa molto giovanile, molto fresca. Mi piace tantissimo. Andiamo a vedere. Anche qui gli ambienti sono divisi, secondo me, malissimo. Sono divisi praticamente come nella casa precedente. E abbiamo qui all'entrata la camera da letto. Semplice. Anche qui tre colori diversi, tutta una cozzaglia di colori. Poi c'è il bagnetto. Anche qui una sola luce, però almeno stavolta l'hanno messa sul lavandino. Quindi ti puoi lavare la faccia, i denti e le mani vedendoci. Un'altra cosa bellissima è che hanno messo la carta igienica qui, lontanissima, proprio. Tu fai la pipì e poi ti devi allungare per prendere la carta igienica. Puzzi! Fermati! Va bene. Qua c'è il salottino. Semplicissimo. Una scrivania con il computer. Ah, qua c'è anche il tavolino con le sedie per pranzare. E di qua c'è la cucina, praticamente come quella precedente, ma almeno qui il lavandino l'hanno messo sotto la finestra. Quindi almeno ha un po' più di senso tutto ciò. E anche qui c'è l'uscita dal retro, dove c'è anche la postazione per il barbecue. Almeno però esternamente è più carina, secondo me. Andiamo a vedere lo scenario visto da questo quartiere. Lì c'è il cratere dove dentro c'è il laboratorio segreto. E quest'area mi sa troppo di area 51, cioè troppo bella. E' troppo particolare. Qui c'è tutto il Grand Canyon. E' bellissimo. E' troppo carino. Secondo me è fatto molto bene comunque. Lo scenario è troppo carino. Akryloski. Immacolato, appartato e annidato su un alto piano, Akryloski ospita gli abitanti più facoltosi di Strangerville. Ti piacerebbe sapere in che modo alcuni di loro sono diventati ricchi? Roswell, nome a caso direi. Qui abbiamo il quartiere dei Ricconi. E infatti si può notare da questo mega casone gigante e anche gli altri due. Ma questo è veramente enorme. Anche l'ingresso è bellissimo fatto così. Con tutte le piantine, la salitina e poi tutta la zona qui per parcheggiare. Andiamo a vedere l'interno. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che appunto hanno lasciato queste stanze vuote. Che in realtà non sono delle vere e proprie stanze. Probabilmente le hanno messe solo per abbellire il lotto. Ma questa è abbastanza grande. Potevano comunque mettere delle scale per arrivare qui. Partiamo dal pian terreno. Qua c'è l'ingresso. Semplicissimo. Qui c'è una porta che dà al bagno. Piccolino ma carino, semplice. Sulla sinistra c'è un arco e ci porta qui nel salotto. Qui c'è un altro piccolo spoiler. Questo è un game pack di anni fa. Poi abbiamo questa porta che dà alla camera di due bimbe. Questa è proprio spoglia sta camera, non c'è niente. E il bagnetto delle due bimbe. È un'altra cosa che non mi fa impazzire. Visto tutto questo spazio, perché mettere il lavandino davanti alla finestra che non c'è lo specchio? Non lo so, non lo sapremo mai probabilmente. E poi dal salotto si va anche in quest'altro bagnetto, anche questo. Cioè perché non mettere un, non lo so, una doccia, no, così. E poi di qua abbiamo una specie di biblioteca, sala svago, sala giochi. Il tavolino con gli scacchi, il mobile con i libri e due poltroncine, è finito. Anche questo a cozzaglia di colori, sono tutti colori diversi. Non ce n'è uno abbinato a un altro. Poi di qua andiamo nella sala da pranzo. Questa già è un po' più curata delle altre stanze, anche se, cioè, si sono risparmiati. Potevano mettere due sedie in più. Questa tenda sembra diversa, ma in realtà è la stessa. Vedete, basta spostarla perché probabilmente qui non c'è la luce, di qua invece sì, quindi è la stessa tenda. È la prima cosa che ho notato quando sono entrata in questa stanza. Di qua abbiamo una mega mega cucina. Qua c'è l'uscita per l'esterno e qui abbiamo le scale che scendono giù in una specie di studio nascosto. Dove poter fare cose. Invece al piano di sopra abbiamo qui il disimpegno vuoto. Non c'è niente. La porta per uscire all'esterno. Poi di qua abbiamo una camera da letto. Anche questa enorme con quattro mobili dentro. È il bagnetto padronale. Anche questo, purtroppo senza finestre. Di qua invece abbiamo un'altra camera da letto. Questa camera è un po' buia. Doppia camera da letto, c'è anche il lettino singolo. Ma poi questa idea di mettere questi letti così non ho capito il motivo, però vabbè. Poi di qua abbiamo una specie di studio, biblioteca, non lo so, anche questa è poverissima questa stanza. È una stanza enorme con veramente quattro mobili dentro. Di qua invece abbiamo un arco che ci porta in quest'altro bagno senza carta igienica. Anche questo. Poi un piccolo studio. Abbiamo soltanto la scrivania e basta. E un'altra camera da letto. Poverissima anche questa. Cioè farei case più piccole, stanze più piccole, ma con una buona proporzione di quantità di mobili dentro. Cioè che significa fare una mega stanza gigante e mettere due mobili? Due. Poverini. Unità familiare, arti eclettiche. Anche questa casa è abbastanza grande. È carina. Mi piace tantissimo l'ingresso qui. E poi, fatto così, si entra da qui e ci troviamo subito in questo mini salottino, ma è veramente carino. Finalmente a terra c'è qualcosa di particolare. Di qua abbiamo la sala da pranzo e mi piace un sacco questo colore alle pareti che, non lo so, mi sa di fresco. Con il tavolo, le sedie, un mobiletto. Anche di qua abbiamo un'altra piccola credenza. Carino. Dalla sala da pranzo si accede alla cucina. Mi piace, anche se non mi piacciono nei pavimenti, nelle mattonelle, però va bene, accontentiamoci. Questa camera è grande, però comunque ci sono un sacco di mobili, quindi va bene. Qua c'è l'uscita esterna. Poi, da quest'altro lato, sempre attraversando un arco, abbiamo quest'altro salottino dove c'è caminetto, tv, stereo, poltroncine. Anche questa non sembra poi così tanto vuota, perlomeno pari all'altra casa. E poi andiamo al piano di sopra. Qui abbiamo un disimpegno semplice. Camera da letto, carina, non è bruttissima, ecco. Non è vuota. Con il bagno padronale. A parte la forma di questo bagno, vabbè, ma la vasca perché è qui? Perché è quasi al centro della stanza sta vasca, ma perché? Manca anche la carta igienica. Poi abbiamo di qua un'altra camera da letto, questa è un po' spoglia. C'è solo il letto con un comò, uno specchio e una poltroncina. Qui abbiamo un altro bagnetto e qui abbiamo un altro mini salottino con la libreria, la poltroncina, dove potersi rilassare e poter leggere. Ambiente dell'altopiano. Anche questa casa non mi fa impazzire, devo dire la verità. Secondo me se mettiamo dei colori scuri mi sa proprio di cui postarebbe benissimo nel pack dei vampiri. Entriamo subito in casa, qua c'è l'ingresso e già all'ingresso troviamo un salottino e non solo troviamo un salottino. Troviamo anche un errore, il vero bug di questo game pack. Questo! Perché? Perché? Moquette. Abbiamo la moquette solo qui. E il resto? C'è nel resto della stanza? Non c'è! Per quale motivo non si sa, però sono queste le cose che succedono a The Sims. Quindi salottino con un pezzettino di moquette, tutto il resto è tutto vuoto. Vedete abbiamo soltanto qui un divanetto con il mobiletto davanti per guardare il muro. La cucina, cioè questa cucina fa troppo ridere, ragà, cioè fa troppo ridere. Il lavandino con un mobiletto, il cestino, tutto staccato! C'è un pezzo di qua, un pezzo di là, un pezzo su, un pezzo giù. Poi di qua abbiamo il bagnetto, anche questo, senza la carta igienica. E di qua si va nella sala da pranzo. Vuotissima! Cioè, raga, non c'è niente in questa casa, proprio ce lo dobbiamo inventare. C'è soltanto il bug, basta! Poi c'è un altro disimpegno vuoto, completamente. Qui c'è una stanza completamente vuota. Mettice di due mobili! Un tappeto, una pianta, non lo so. Poi qua c'è la porta per uscire sul balconcino. Qua c'è una mini-mini stanzina da letto. Al posto di metterla qui, la stanzina da letto, non la potevano mettere di qua. C'era più senso, no? No, di qua abbiamo la camera da letto padronale, con il bagnetto privato. E tra l'altro per entrare in bagno c'è l'arco. Almeno il WC l'hanno messo qua, quindi è un po' nascosto. E ci sono due lavandini, vedi? Facciamo progressi, ci sono due lavandini. Di qua invece abbiamo un altro bagno. Secondo me è il bagno fatto meglio di tutto il game pack. E qua un'altra cameretta da letto. Andiamo a vedere come si vede lo scenario da questo quartiere. Bello. Ecco, lì è successo qualcosa. Qualcosa che prima non c'era. È troppo carino comunque. I due lotti buildabili sono sommità della scogliera, residenziale 30x20. E area angolare sul torrente, residenziale anche questo 30x20. L'ultima cosa da vedere è il laboratorio segreto. E secondo me questo laboratorio vale tutto il game pack. È stupendo, è bellissimo, ma soprattutto è bellissima tutta la storia che c'è dietro. È tutto quello che si deve fare per poi arrivare alla soluzione di questo mistero. Cioè questo gameplay vale il game pack. Scrivetemi nei commenti se anche voi avete trovato qualche errore. E scrivetemi anche se avete mai giocato a StrangerVille e se vi è piaciuto. Io l'ho adorato. Un bacione ciccione a tutti e al prossimo video. Anche da Puzzi. Puoi trovare dei membri dell'esercitano che... Desesercitano? Farla!